Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti nella sede temporanea della comunità ecraica protestista del Cielo, che insieme con la gloriosa associazione AMT, che tra poco avrà l'anno già, vi do il benvenuto alla seconda rassegna organizzata insieme. Grazie a tutti. 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 fondamentale su Forza Antigone e quindi mi sono sentita, anche secondo Antigone non ho avuto niente a che fare per mia fortuna, mi sono sentita a casa durante il convegno e durante il, come dire, nell'organizzazione del volume. Sono molto felice che lei sia qui, una nuova generazione e le lascio volentieri la parola. Grazie, grazie Olet, grazie a Betillelle, grazie ovviamente a Giuliano. Allora, buonasera a tutti, mi si sente bene? Sì. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare Roberta Scarelli per questa meravigliosa presentazione, l'associazione Betillelle e l'associazione ebraico-tedesca, veramente una bella sorpresa, io e Roberta Scarelli ci sentiamo occasionalmente e questo invito è stata, è il primo, peraltro, il primo fuotra, la prima relazione che faccio da ricercatore incardinato, quindi sono anche un po' emozionato in questo senso, perché è un po' la lezione, no? Quella che si fa la lezione iniziale, anche se non è all'università, ma insomma. Ho accettato molto, molto volentieri l'invito e soprattutto perché io ho iniziato a occuparmi di Margarete Sussman ormai più di dieci anni fa. all'inizio del mio percorso dottorale e riprenderla in questi giorni è stata per me una scommessa e anche una bella sfida, perché riprenderla con una distanza temporale, riprendere un'autrice così complessa, una distanza temporale, seppur minima, comunque notevole, mi ha dato la certezza e la conferma del fatto che Margarete Sussman è un'autrice che va assolutamente riscoperta, proprio per la miria delle suggestioni che propone. Parlare di Margarete Sussman ancora e soprattutto oggi, infatti, significa tracciare sempre un percorso diverso, selezionare una tematica sempre nuova, individuare una prospettiva sempre vicina all'attualità. Il leggere i suoi saggi aiuta ogni volta ad aprire nuovi cassetti, poiché la scrittura di questa straordinaria poetessa, saggista, pensatrice ebrea del secolo scorso, ad oggi sostanzialmente sconosciuta, anche se la ricerca sta piano piano riprendendoci a un convegno che si terrà a Monaco e a Zurigo proprio il prossimo anno, ha seguito passo passo molte delle trasformazioni del novecento. Pensiamo che, infatti, Margarete Sussman ha vissuto novantaquattro anni, quindi ha visto tutto il novecento. La sua è una scrittura molto ricca, caratterizzata da un uso rigoroso della lingua tedesca e allo stesso tempo colma di immagini metaforiche straordinarie. La lingua di Sussman, mi permetto proprio di dire due cose sull'uso del tedesco. Lei è chiaramente una donna dell'Ottocento, il suo tedesco è molto elegante, è molto complesso, una sintassi labirintica, che però già all'inizio del novecento, quindi, e poi a seguire, si trasforma in una scrittura sempre più agile, quindi saggistica in questo senso. E quindi è un piacere anche scoprire questo, come dire, questo sviluppo linguistico che va di pari passo con le tante tematiche che io oggi cercherò di toccare, chiaramente non potendo approfondire, però cercando di dare una panoramica abbastanza generale dell'opera di Margherita Sussman. Brevemente sulla sua biografia, inizierei appunto dalla vita di Margherita Sussman, che nasce ad Hamburgo nel milottocento settantadue, vive Anna Anufa, Düsseldorf, Berlino, Francoforte e dal milenovecentotrentatré torna a Zurigo, dove aveva vissuto alcuni anni della sua infanzia, chiaramente in esilio. Cresce in una famiglia della buona borghesia ebraico-tedesca, assimilata, una famiglia in cui ricorda nella sua autobiografia, il cui titolo è, in maniera molto eloquente, Ich habe viele Leben gelet, quindi ho vissuto molte vite, dice, vi cito dalla sua autobiografia, con la traduzione di Claudia Sonino, eravamo tedeschi, altrimenti nulla di tutto ciò che è accaduto dopo ci sarebbe sembrato così spaventoso, così schiacciante. Parlavamo la nostra cara lingua tedesca, la nostra lingua madre, nel senso più vero del termine, attraverso la quale abbiamo ricevuto, grazie, e attraverso la quale abbiamo ricevuto tutte le parole e i valori della vita. La lingua è un po' come il sangue, non conoscevamo altra patria al di fuori di quella tedesca e l'amavamo come si ama qualsiasi patria, un amore che poi si sarebbe rivelato fatale. Chiudo la citazione. La famiglia originaria di Margarete Sussmann era assimilata all'ambiente benestante della della città ansiatica e da piccola Margarete Sussmann fu educata laicamente. La partecipazione del padre ai movimenti del 1848 fanno in modo che la politica fosse molto più presente della religione in casa Sussmann e questo è un fattore importante poiché influenzerà molto il pensiero e la visione politico religiosa di Sussmann. A Düsseldorf, dove Margarete Sussmann decide di studiare pittura, nonostante le resistenze del padre, conosce Eduard von Bendemann che sarà poi, pittore anche lui, sarà poi suo marito. Si sposerà, si sposeranno, avranno un figlio Erwin e poi il matrimonio finirà e sarà per Margarete Sussmann un evento traumatico. Lei lo chiama un velo nero sceso sulla mia vita, tant'è che cade in depressione, una depressione molto, insomma, che lei descrive con grande con grande partecipazione, diciamo così. Sussmann, sintetizzando, ha visto lo scoppio della grande guerra, la nascita e il fallimento della Repubblica di Weimar, ha assistito all'ascesa di Hitler, alla seconda guerra mondiale, al dopoguerra. Da Zurigo, dove emigra nel 1933, come abbiamo detto, non ha mai fatto ritorno in Germania, c'è solo un episodio, un aneddoto che viene narrato, che lei narra nella sua autobiografia, nel 59, le veniva dato la Freie Universität di Berlino, le ha conferito la laurea honoris causa. Lei stava per uscire di casa, a Zurigo, e cade, lei già aveva 90 anni. È stato un segno del destino, lei l'ha preso veramente come tale, quindi è un episodio abbastanza significativo. Attenta osservatrice delle trasformazioni storiche e culturali tedesche ed europee, Sussman ha studiato il senso profondo dell'essere umano, ha affrontato il tema dell'amore, in von Zinderlibe del 1912, ha ragionato sui principali nodi del sionismo culturale, sul quale brevemente andremo ad approfondire, ha affrontato la questione delle donne, che vedremo in maniera più approfondita invece, quella del dialogo interreligioso, e infine quella chiaramente più dolorosa e più difficile anche da esprimere con parole adeguate della Shoah, nel libro di Giobbe, uscito a un solo anno dalla fine della guerra. È stato il primo libro, uno dei primi, delle prime riflessioni, nel 46. La sua testimonianza, la sua scrittura, direi più che testimonianza, abbraccia diversi ambiti ed è da una parte proprio quella di una vera e propria saggista, proprio stritto senso, quindi atta a sviscerare tematiche politiche, sociologiche, religiose, però dall'altra parte è quella di una, in tedesco, diciamo appunto in alcuni suoi articoli viene chiamata una Grenz Gengering, che è un termine un po' abusato, devo dire, però nel suo caso questa, una donna che si muove, una scrittrice che si muove tra, in effetti tra vari generi letterari, poesia, saggistica, critica, giornalisma, giornalismo, scusatemi, ma anche tra diversi orizzonti filosofici, tra diverse città, tra le religioni che vive e che studia, nonché tra i numerosissimi rapporti umani, lontani e vicini, che intrattiene. Margarete Sussmann era allieva di Georg Simmel e intima amica di Gertrude Simmel, vicinissima a Martin Buber e a Franz Rosenzweig. Intrattiene scambi epistolari fittissimi con Karl Wolfskel, Bertha Pappenheim, Anna Karminski e negli ultimi anni della sua vita proprio con Paul Celan, che la considera una magistra di cultura ebraica e li dedica a bellissimi componimenti poetici. Allora, proprio questa ricerca del rapporto, secondo me, è cruciale ed è quella che mi permetterà, in questo poco tempo che abbiamo, di ripercorrere gli aspetti cardinali della vita e dell'opera di Margarete Sussmann. Li vorrei ripercorrere proprio seguendo un percorso cronologico abbastanza classico, ma tenendo ben presente l'importanza del concetto di movimento, quindi di Bewegung proprio, nel pensiero di Sussmann e anche, e mi riallaccio a Roberta Scarelli, del suo pensiero dialogico, inteso come un dialogo tra pari proprio, e quindi come la tensione continua e ferma al rapporto con un interlocutore o una interlocutrice ovviamente, ma anche come sintesi, incontro, mediazione tra opposti. Allora, nella prima parte vorrei parlare del passaggio cruciale per Sussmann dalla poesia alla saggistica, dando qualche accenno sui suoi saggi dedicati al culturzionismo. La seconda parte sarà dedicata invece ai saggi degli anni venti sulla cultura femminile, e con un riferimento specifico a Rahel Barnagin, sulla quale lei scrive molto. Nella terza e ultima cercherò di riassumere il senso appunto del suo testo forse più noto, più conosciuto e più studiato, che è il libro di Job e il destino del popolo ebraico del 46. Ritorno un pochino alla sua autobiografia. L'autobiografia, insomma, la prendo un po' come come bussola, perché lei dice che all'inizio del novecento tre sono stati gli eventi storici che l'hanno sconvolta, che l'hanno toccata più sconvolta. La traumatica esperienza della grande guerra, il fallimento della rivoluzione e l'attentato a Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, più che altro le modalità violente con le quali appunto questo attentato è stato effettuato. Sono eventi che la toccano personalmente e le danno una sorta di campanello d'allarme, perché le dicono la poesia non è più in grado, dal mio punto di vista, di esprimere la serietà e l'urgenza di un dibattito, scusatemi, politico e religioso molto urgente. Sono alla politica e alla religione, quindi i temi ai quali mi devo dedicare. E il primo contributo, anzi il secondo in realtà, il primo importante potremmo dire, il primo contributo importante al dibattito ebraico tedesco del tempo è quello scritto per il volume collettaneo, von Judentum, molto celebre, Ein Sammelbuch, del milenovecentotredici, curato da Hans Kohn, perché importante? Perché aveva riunito le voci più autorevoli del zionismo culturale del tempo. La voce di Margarete Zusman, il saggio, dedicato a Spinoza, è l'unico scritto da una donna. Questo contributo e questa esperienza di collettanea segna molto il pensiero di Zusman e anche la sua vita, perché praticamente tutti i contributori, da Rosenzweig, Apuva, Wolfskel, lo stesso Wasserman, Landaua, rimangono per tutta la sua vita suoi amici e suoi interlocutori a proposito di rapporti, appunto. La strada che Zusman indica a partire da questo contributo, passando poi per i suoi saggi religioso politici di questi anni, è abbastanza in linea con Martin Buber ed è quella del recupero del fondamento del zionismo culturale per rinnovare la tradizione ebraica e favorirne la rinascita. Zusman mette in contrapposizione la limitatezza, quindi proprio di Besherentide, della visione del zionismo politico alla Herzl, con la illimitatezza del percorso spirituale suggerito da Ahad Aham, verso la realizzazione dello spirito ebraico. Insiste molto sulla necessità di una rinascita che non è una soluzione immediata, pratica e pragmatica, bensì un percorso spirituale da una parte e culturale dall'altra. Come precisa Elisa Clappe, che scorsa volta giustamente Roberta Scharelli ha evocato, l'autrice praticamente dell'unica monografia completa su Margarete Zusman, l'ebraismo di Margarete Zusman è, cito, e ho tradotto anche da lei, un continuo e attivo dare forma a contenuti culturali che possono, anzi devono, travalicare i confini dell'ebraismo ed essere indirizzati all'umanità intera. In questo senso l'ebraismo è per Zusman eine offene religion, una religione aperta, eine religion auf dem Weg, una religione in cammino, eine Welt religion, una religione del mondo universale. Sia per Zusman sia per Bubba il rinnovamento parte dunque da una ricerca individuale, passa attraverso uno sguardo interno per poi divenire esterno ed effettivo. Quindi il nesso, e sono d'accordo con Clappe in questo senso, su altre cose no, ma su questo sì, tra religiosità e nazione è cruciale per Margarete Zusman. Così come cruciale è il rapporto tra ebraismo e politica, intesa come Gemeinschaft der Asylen, quindi proprio come comunità di anime. Nel saggio intitolato Einzelmoral und Statsmoral, quindi morale individuale e morale statale, Zusman indaga non solo la connessione tra individuo e stato, ma precisa proprio ciò che lei intende per stato come Gestalt, come forma piena, mai definita, nella quale vive una comunità vibrante, insomma, sono vibrante uno degli aggettivi che lei mutua dalla Lebensphilosophie, che si oppone all'individualismo, ma non all'individuo, ed elabora opinioni frutti di un frutto di un dialogo costante. La costruzione dello Stato è dunque essenzialmente determinata dalla creatività del Geist, che da spirito individuale assorge una forma collettiva, diventando così comunità politica e critica, in un processo di vitale crescita e progressiva stratificazione, che ha tutti gli effetti una costruzione culturale. Al concetto di comunità, di Gemeinschaft, che rimanda alla teoria di Tönnis e successivamente di Simmel, l'autrice dedica grande attenzione, lo rende poi discorsivo nei saggi dedicati alle donne, all'azione politica e soprattutto al dialogo ebraico tedesco. Cito da uno dei suoi saggi più noti, intitolato di Brukets Fishing Judentum, un Christentum, quindi il ponte tra ebraismo e cristianesimo. Lei dice brevemente, il cristiano tedesco e l'ebreo tedesco che si guardano negli occhi, uno di fronte all'altro, ed ecco che affiora il ponte che porta dall'ebreo al tedesco, dal tedesco all'ebreo. È fine della citazione. L'incontro tra ebrei e tedeschi avviene dunque sul piano di un dialogo interreligioso, possibile però solo se si scandaglia la storia e si mantiene intatta, trasformandola, l'identità del popolo ebraico. Un' identità che non può e non deve essere normalizzata, né adeguata ai nazionalismi europei, l'è molto critica nei confronti del nazionalismo europeo, chiaramente, ma va messa in luce soprattutto in considerazione della galut, della diaspora, che per Zussman, così come molti altri, come Wolfskel, per esempio, rappresenta l'essenza dell'ebraismo. Israele è quindi, secondo Zussman, allo stesso tempo gestalt, forma, culturale e spirituale, e anti-gestalt, perché si oppone al culto dell'immagine. L'ebraismo, scrive, è una religione mondiale nel senso più profondo e decisivo del termine. L'elemento nazionale, in senso puro, non significa mai meta solo di Israele, poiché Israele non è un popolo come gli altri. Ad Israele risiede la realizzazione di Dio, ma non sulla base dell'autorealizzazione del popolo, ma sulla base del suo compito. Qui non parliamo di un'immagine di Dio, ma di Dio, del Dio del quale è proibito fare immagine con mezzi terreni. Fine della citazione. Passo al secondo punto, che è un secondo importante nucleo tematico, che è quello del femminile. Ci sono in realtà, come vedremo, delle parentele e della differenza sessuale. Allora, il concetto di immagine è centrale nella scrittura della nostra. Il mio avviso, insomma, leggendola un po', non escludo che lei se lo sia portato anche dagli studi di pittura, da un certo punto di vista. Ovviamente parliamo di un'immagine diversa. Questo nucleo viene portato, in virtù del suo pensiero mobile, anche nella tematizzazione del femminile. In uno dei suoi più importanti, lunghissimo tra l'altro, scritti sulla differenza sessuale, intitolato Das Frauen Problem in der Gegenvertigen Welt, quindi il problema femminile nel mondo contemporaneo, del 1926, Zussman ricostruisce una sorta di storia metafisica della differenza sessuale e si inserisce così, a buon diritto, tra le pioniere del pensiero della differenza, quindi diciamo del femminismo della seconda ora. A proposito dell'immagine, lei ci dice chiaramente che, e cito, lei, la donna, si è andata cercando nell'immagine dell'uomo ma non si è trovata. Vi ha trovato il più alto e il più profondo dell'essere femminile, ma mai la sua realtà. Lì ha avuto inizio la lotta, la dura lotta tra l'immagine che l'uomo si è fatto della donna e quella della donna stessa. Questa lotta costituisce l'intero problema femminile. Il fine della citazione. La donna immaginata è stata a lungo il grande tema del maschile, non solo in letteratura ma anche nelle arti, continua Sussman. Lo stesso Goethe ha detto chiaramente che il suo modello non era la donna reale. Lo stesso valeva per Raffaello, per il quale era la certa idea, certa idea scritta in italiano, di donna a spingerlo nella rappresentazione. Ricorrendo ad un confronto tra la tradizione greco-cristiana, che si è affermata come fondamento della cultura europea e quella ebraica, tesa al messaggio e all'ascolto, Sussman afferma che le donne europee sono state preda del vizio dell'immagine e di conseguenza costretta a una binaria e rigidissima posizione tra Eva, la generatrice del peccato, e la Vergine Maria, simbolo sommo di purezza. Per noi adesso si parla tanto di binarismo oggi, però pensiamo che un saggio scritto nel 26, molto coraggioso in questo senso dal mio punto di vista. Affinché la donna dia voce e spazio alla propria identità, e almeno in un primo momento si emancipi dal destino biologico che la resa subalterna, è necessario, dice Sussman, tracciare una nuova strada. Ed è proprio partendo dalla metafora della strada, del Weg, che Sussman ci parla di differenza femminile, asserendo che le donne non percorrono strade lineari e tracciate, prevedibili e logiche, ma percorrono degli umweghe. Quindi un termine molto complesso da tradurre, quasi impazzito, che fa pensare traducendo la lettera dei percorsi che in tutti intorno. Il passo che le donne intraprendono si contraddistingue dunque per una deviazione dal percorso lineare che è prerogativa del maschile, dice Sussman. Nessuna strada nel mondo della società sembra rimanerle aperta alla donna, alle donne. Lei può solamente riposare oppure saltare, solamente rimanere attaccata a terra oppure volare. L'incedere camminando le ha estraneo, è completamente priva di strade, bag loose. Tutto ciò che è strada appartiene al regno dell'uomo, fine della citazione. Le donne che scrivono o che si esprimono pubblicamente, possono farlo all'epoca perlomeno, riferiscono così un rapporto specifico con la lingua e con la realtà che le circonda ed è qui che nasce una categoria nuova, proprio quella dell'unveg, necessaria per definire la differenza, la via alternativa, la strada più lunga, il percorso più tortuoso che chiarisce Sussman deve passare attraverso la sfera maschile ma dalla quale allo stesso tempo appunto si può e si deve separare. Nel romanticismo Margarete Sussman individua l'epoca della cultura tedesca nella quale questa eterna, ferma icona del femminile si è trasformata o comunque ha conosciuto una prima emancipazione, se vogliamo utilizzare questo termine. E proprio alle scrittrici del Novecento lei dedica un libro, secondo me il suo più riuscito, Frauen der Romantik del ventinove, donne del romanticismo, ed è in Rael Warnagen che lei appunto trova non solo una valida antenata, una foa gangering con cui confrontarsi, ma soprattutto una donna scrittrice che insieme a Freud e Spinoza, dice lei, in virtù del suo estro intellettuale, incarna il geist ebraico, lo spirito ebraico e si oppone con la sua parola, il suo sistema di pensiero, al culto europeo dell'immagine. Rael Levin Warnagen intesseva un po' come Zussman rapporti umani con uomini e donne, esprimeva i suoi punti di vista molto critici nelle sue celebri epistole, trascriveva i suoi sogni nel diario molto prima che la psicanalisi diciamo così desse una lettura ai sogni. Nei saggi dedicati a Rael, Zussman insiste sull'origine ebraica che le accomuna in una sorta di rapporto che travalica la distanza storica, un legame che lei definisce, cito, una peculiare forza ebraica fondante. Nel confrontarsi con il pensiero di Rael Warnagen, che lei definisce lebendisch, spontan, wunderbar, quindi spontaneo, vitale, meraviglioso, l'autrice scrive, l'ardente desiderio di verità, l'amore e la gioia che prorompono unite dalla notte di un destino molto scuro, sono i tratti fondamentali dello spirito, quindi del Geist, di Rael Warnagen. Su questa base dunque è possibile delineare il suo spirito in ogni suo dettaglio e questo, nonostante Rael sia stata una figura assolutamente originale per la sua epoca e al contempo uno specchio così fedele dei suoi tempi e della sua cultura come pochi altri. Fine della citazione. La ricerca della verità è costante in Rael e non solo, poggia su un equilibrio tra una prorompente energia artistica, un'attitudine vitale da una parte e un profondo dolore, legato sia alla sua sensibilità e ai suoi amori che vengono anche citati da Zussman, ma anche al suo sentirsi estranea in quanto ebrea. Rael, scrive Zussman con ammirazione e a mio avviso distaccandosi dalla visione ipercritica e apparentemente cinica di Anne Arendt, che appunto in quegli anni scriveva anche lei su Rael Warnagen, appunto Rael non rinnegava il dolore e le straneità, ma queste esperienze le attraversava nel profondo e questa è, secondo Zussman, la iudice Grundkraft, quindi proprio la forza ebraica fondamentale, che porta attraversando l'abisso alla gioia, a quel sentimento che la mistica cassidica chiama proprio das Brennen, no? Il bruciare. L'estranetà, la Fremdheit, che ricorre moltissimo in Arendt, in Zussman, è un'assenza di rapporto, se ci pensiamo, e quindi diametralmente opposta al dialogo. Questo concetto mi porta appunto all'ultima parte del mio intervento ed è forse la parte più complessa. Chiaramente si tratta degli anni dell'esilio, quindi dal 33 in poi, pensiamo che Frauen der Romantik del 29, dopo quattro anni, Margarete Zussman torna in Svizzera. Come molti suoi colleghi, ovviamente, nel 33 Margarete Zussman fugge da Francoforte, dove sarà trasferita in seguito alla separazione del marito, e dice e decide di trasferirsi proprio vicino Zurigo, e lì resterà fino alla morte nel 64. Durante il periodo della guerra, Zussman non può pubblicare ovviamente quanto avrebbe voluto, dato che a partire dal 36 non le era più consentito scrivere in Germania. In Svizzera lavora in primis per due riviste socialiste, Noi e Wege e de Aufbau, però proprio a causa della sua posizione molto esplicitamente contraria al regime, le fu imposto, partita dal 39, il divieto di pubblicare anche Svizzera. Guardata con sospetto e denigrata come una profuga, lei continua comunque a scrivere e utilizza uno pseudonimo Otto Reiner. Nel 39, sempre, poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, ormai ci siamo, la sua sorella maggiore, Paola, e la sua cara amica, Gertrud Kantorowicz, erano tutte e due dirette a Zurigo, volevano raggiungerla, vengono fermate per essere deportate a Teresienstadt. La sorella di Margarete si suicida prima di arrivare a destinazione, Kantorowicz invece muore nel 44 a Teresienstadt, quindi un anno prima della liberazione. Ci sono delle righe, un passaggio molto toccante nell'autobiografia di Sussman, in cui lei descrive i momenti dell'attesa dell'arrivo della sorella. È un arrivo mai avvenuto. Scrive così Margarete Sussman, la traduzione è la mia. L'attesa di quelle settimane non si può dimenticare. Ogni telefonata pensavamo fosse un suo messaggio. Poi, finalmente, ricevemmo la chiamata in cui ci dissero che sarebbe arrivata, ma non arrivò. Aspettammo ancora e finalmente l'unica del gruppo che per casualità era arrivata da noi portò la notizia che erano stati bloccati al confine e che mia sorella si era tolta la vita. Più in là ho saputo che era morta serenamente, che un sorriso le era comparso sul volto. La mia unica debolissima consolazione stava nel fatto che mia sorella aveva sempre avuto un rapporto molto particolare con la morte e non ne aveva paura. Ma comunque, cosa poteva esserle successo nelle ultime ore di vita? Non so bene come sono riuscito a superare la morte di questa persona autentica, benevola, vicina, quale forza mi ha sospinto dal baratro alla vita. Fine della citazione. All'indomani della fine della seconda guerra mondiale, appunto, Margarete Zussman pubblica questo testo, il libro di Job e il destino del popolo ebraico, nel quale cerca di dare una prima lettura della Shoah e dare una risposta ai tanti perché legati a quello che lei nella prima pagina definisce il più violento culmine di odio per gli ebrei di tutti i tempi. A differenza di altri suoi saggi politici molto precisi che partono da una tematizzazione storico- politica sempre abbastanza rigorosa, qui Zussman tenta di confrontarsi con le più grandi questioni relative al destino del popolo ebraico. La figura di Job e la tragedia della Shoah vengono argomentate qui in una forma saggistica ormai matura, ampia ed organica. Il destino del popolo ebraico si rispecchia nella vita di Job, figura che è patrimonio comune di ebrei e cristiani e che proprio come Margarete Zussman, donna ebrea davanti alla Shoah, non si vuole limitare a subire la sofferenza inflitta da Dio ma desidera indagarne l'essenza, porsi dei quesiti sulla ragione di tanta ingiustizia, sebbene non sia forse possibile dare una risposta. In realtà già nel 1926 la scrittrice, avvertendo i segni di un antisemitismo dilagante, aveva trovato in Job una figura emblematica per rappresentare non solo il destino del popolo ebraico, ma anche il mondo di Franz Kafka. Un mondo che Zussman osserva e definisce oscuro, violento a suo modo. Zussman è una delle prime a scrivere su Kafka, delle primissime già negli anni venti, perché senza anima, schiacciato da una legge spregiudicata e pervaso da una gelida razionalità. Tornando al libro sul destino ebraico, Zussman ragiona su temi politici e religiosi come il sionismo, la persecuzione, la colpa, il dialogo interreligioso, è importante che lei non si sofferma sul come e sul dove del genocidio, non le interessa, perlomeno in questo caso. Le interminabili domande che Job pone a Dio vanno lette come fragm auf fragm, come domande su domande. Questo è, senza entrare nel merito di questo libro molto complesso, su cui è stato scritto molto e meglio di me, il punto, secondo me, cruciale di Margarete Zussman. Le interessa, a le interessa comprendere gli avvenimenti storici scandagliandole le ragioni più profonde. E come lo fa? Permettendo alle categorie di pensiero assorbiti negli anni di studio individuale e anche da autodidatta, di dialogo costante, di ricerca appassionata, di uscire dal reticolato filosofico di appartenenza e di muoversi, di trasformarsi, plasmarsi, perché, citando Anna Arendt, ich will verstehen, io voglio capire. Gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale vedono l'ammissione della difficoltà del progetto ebraico tedesco a cui Zussman l'ha dedicato saggi, conferenze e riflessioni. L'identificazione con la cultura e la lingua tedesca e l'amore incondizionato per la Germania rivelano il loro volto oscuro. Ciò che resta dell'antica simbiosi è dolorosa estranità e diffidenza, rabbia e delusione, autocritica e rimpianto. Ora c'è un saggio del 1962 che rivede quello, il ponte di cui avevamo parlato all'inizio, di Brook. È intitolato esattamente di Brook, ma dalla prospettiva degli anni sessanta, due anni prima della sua morte. E lei dice l'intesa è la riconciliazione dei tedeschi con gli ebrei, nella quale avevamo entrambi motivo di sperare, è andata terribilmente distrutta nel momento più promettente. All'indomani di eventi catastrofici ci poniamo una domanda penosa. Può nascere un nuovo ebraismo tedesco? A me sembra impossibile. Il colpo è stato troppo duro, la semina terribile gravita di conseguenze. Certamente ci sono molti ebrei in Germania, ma di un ebraismo tedesco non si può più parlare. Lei chiude così due anni prima della della morte. chiaramente quello che anche citando quest'ultimo saggio amaro, chiaramente, quello che si mantiene leggendo e rileggendo Margarete Sussman oggi è invece proprio la tensione continua al dialogo che lei ha messo nero su bianco proprio negli anni in cui ci si preparava al secondo conflitto mondiale. e questa ricerca continua del dialogo della conciliazione, della mediazione Margarete Sussman la applica a moltissimi ambiti, quindi ovviamente al dialogo tra ebrei e tedeschi, tra maschile e femminile, tra geist e seile, quindi tra spirito e anima. E credo che, a prescindere dalla complessità del suo pensiero, come ha detto giustamente Roberta all'inizio, quello che soprattutto oggi, nell'attualità, quello che possiamo portare, decisamente di Margarete Sussman, è proprio questa tensione, proprio questo, eh, questa volontà chiara di dialogo, che penso sia proprio la cifra del suo, del suo pensiero. Grazie mille. Grazie. Grazie tantissimo al professor, dottor, non lo so, Giuliano. Sì, proviamo, sì, per una illuminante illuminante, illuminante, no, illuminante lezione, almeno per me. Ho capito anche che questa idea di fare questo ciclo di conferenze proprio in questa sede ha avuto profondi motivi che noi non sapevamo, perché quello, quello che abbiamo, abbiamo sentito, fa anche, spiega anche la tensione all'interno dell'ebraismo e l'apertura verso il mondo esterno e altre cose che legano, legano il pensiero della studiosa all'ebraismo ritornato, che mi fa molto piacere. Lei era anche una poetessa, giusto? Ecco, mi mancava un pochino qualche verso della sua poesia, non so se abbiamo a disposizione, sicuramente, sicuramente, grazie, sicuramente, recupereremo questa lacuna. Adesso apriamo il nostro dibattito, chiederei anche a Roberta di comparire, ma anche non sentono bene. Ci scusiamo per i problemi tecnici. Allora, se vuoi dire ancora due parole, ti cedo il microfono. Grazie. Io volevo fare i complimenti a Giuliano Lozzi, che ha fatto una bellissima relazione, ha aperto moltissime porte, buttato, come dire, buttato oltre, buttato giù, moltissimi ponti. Credo che ci sia rimasta la voglia di approfondire, di leggere e di questo siamo molto grati, perché credo che una conferenza serva soprattutto a far venire desideri di approfondire, di conoscere. Grazie anche di averci offerto un panorama così ampio del pensiero della Sussman e quindi di non essersi fermato soltanto agli elementi più noti, più conosciuti, ma anzi essere andato a scavare cose sicuramente di grande interesse e anche di grande modernità. Da una parte è anche molto storicizzabile dall'altra, perché poi la Sussman a questo parla per l'oggi, però è un interprete del suo tempo. Sicuramente Giobbe è il libro fondamentale, credo, per tutti noi, perché è un libro in cui si riflette sull'essere ebrei, sulla simbiosi ebraico-tedesca, ma non solo, sul continuare a esserlo in modo diverso dopo la Shoah e su questo secondo me si potrebbe riflettere ancora molto, ci sono molte pieghe in questa riflessione, però intanto quello che ci ha detto è sicuramente abbastanza per renderci conto della complessità di questo pensiero, che non si contenta soltanto di giudicare, ma passa dalla storia fino al rapporto con l'assoluto, dalla religiosità a una proiezione sul futuro, chiedendosi anche quale ebraismo a questo punto. Quindi è un testo, secondo me, eccezionale e di cui grazie ci hai dato un po' tutti gli elementi, insomma. Grazie, bellissimo. Ho preso il microfono solo perché mi aveva incuriosito in maniera particolare la frase che ho sentito durante la lezione, che rimase, Margherette Sussman rimase molto colpita in maniera particolare, sottolineando questo fatto, la morte di Rosa Luxemburg. Vorrei sentire qualcosa di più e poi chiederemo agli altri interlocutori di chiedere. Molto, molto volentieri, grazie della domanda. Margherette Sussman conobbe Rosa Luxemburg brevemente e a Rosa Luxemburg purtroppo non c'è stato il modo di approfondire, ma ha dedicato due saggi molto, molto belli, nei quali lei non solo delinea il profilo della politica, diciamo, ma soprattutto della della donna, Rosa Luxemburg. E in uno dei saggi lei prende soprattutto in analisi le lettere dal carcere che Rosa Luxemburg scrive, mettendo molto bene in evidenza proprio il lato, oserei dire, più tenero, no, dell'oratrice, della politica che conosciamo. Diciamo che io ho sempre visto un po', allora, dopo il 1929, anzi dopo il 33, Margherette Sussman non si occupa stranamente più di donne e neanche di Rae Varnagin, la lascia completamente da parte, si dedica esclusivamente, quindi più al suo, no, quindi ad altri temi che abbiamo visto. L'unica donna sulla quale scrive successivamente, quindi quasi in prossimità della sua morte, è proprio Rosa Luxemburg. Questo, a mio avviso, ha testimonianza della, proprio del solco, dell'importanza che per lei ha avuto una figura chiave come Rosa Luxemburg, da una parte, e anche a testimonianza dell'importanza che Margherette Sussman conferiva alla politica e al senso della rivoluzione, che è un concetto per lei non semplice, poiché, come altri concetti che ho cercato di spiegare, lo applica a vari ambiti, ma che, a mio avviso, si incanala sempre nel tema della trasformazione del movimento. Quindi, sì, Rosa Luxemburg è insieme a Rae Varnagin, credo la figura femminile per lei di riferimento, tanto più contemporanea sostanzialmente. La conobbe attraverso Gustav Landauer, per cui, insomma, c'era un filo rosso politicamente contrassegnato molto, molto forte. Margherette Sussman, per quello politica e religione in lei veramente corrono parallele e in maniera notevole. Grazie. 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 Molto, molto interessante. Eh, illuminante. Eh, quante domande ti posso fare? Perché ce n'avrei un? Sei, sette, otto. Ah, beh. Semplicissime, proprio basic. Allora, una, a caso, c'è una differenza di età considerevole, poi hai detto che lei smette di occuparsi di donne a partire da un certo punto, ma che tu sappia aveva contatti con Jean Hirsch? Ok. E non ci sono neanche contatti nel nel pensiero. Va bene. Questa era facile. L'altra è il suo filosofo di riferimento, tu spesso parli di cassidismo, da, 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 per cui è ovviamente Buber o? Ok. Direi Martin Buber in prima analisi assolutamente perché lo lo tiene, lo mantiene per tutta la sua vita sostanzialmente e in in seconda battuta a mio avviso Simmel è stato molto importante per lei. Quindi più che altro perché Georg Simmel è stato è stato il primo, eh, lei da uditrice, da Castio Ederin a Berlino andava lì a ad ascoltare le sue lezioni. E quindi anche il discorso legato, tutta la che c'è l'està differenza, quindi la differenza sessuale, lei poi la cambia completamente, o non completamente, ma anche Simmel si era occupato, no, di questo in quegli anni. Però Martin Buber per lei è il riferimento filosofico, di pensiero proprio più, più vicino. eh dopo la guerra la la sua passione diciamo così per la diaspora viene modificata rispetto a a Israele. Lei ha accennato questo fatto di gestalt, non gestalt, eccetera, ma lei poi ha una modulazione nel suo pensiero nei confronti dello Stato di Israele? Diciamo che, allora, nel libro di Gioppe, quindi siamo già nel 46, e lei ha comunque più o meno la stessa idea che aveva quindi nei saggi sul sinismo culturale, quindi negli anni venti. Successivamente ne parla sempre meno perché negli anni Svizzera lei si occupa sostanzialmente più di coniugare socialismo e cristianesimo, quindi è come se lei fosse sempre alla ricerca di punti da costruire. Che io sappia, ma devo un pochino leggere meglio i suoi saggi ultimi, perché li conosco un pochino meno, mia colpa, e che io sappia la sua idea su Israele è rimasta tale, chiaramente modulandola rispetto a quegli anni che insomma erano particolari, come dire, comunque vi era un dibattito completamente diverso. Di principio credo che sia rimasta la stessa, però. Ci puoi soltanto ricordare qual era la malignità di Arendt nei confronti di Rael Varnagin? Questa è, allora, dal mio punto di vista la visione di Arendt su Rael Varnagin è molto complessa, è quasi impossibile da decifrare, perché leggendo la monografia si ha in alcuni passi la sensazione che non è anche un paio di Rael Varnagin è un'altra cosa. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricominciamo. Grazie a tutti. 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 soprattutto della diaspora è assolutamente Landauer e della Weltreligion decisivo sono assolutamente d'accordo se nello scambio tra Zuzman e Celan ci sono passaggi su Gustav Landauer purtroppo non lo so perché lo scambio tra Zuzman e Zuzman siamo negli ultimi anni di vita non mi sono occupato Lidia Quelle è una studiosa di Potsdam che ha veramente scandagliato quella fase importante della vita di Zuzman so che Celan ha dedicato a Margherita Zuzman due componimenti poetici molto molto belli uno dei quali è proprio nell'edizione italiana di Giuntina del libro di Giobbe destino del paura ebraico all'inizio Gianfranco Bonola o Bonola nella proprio nell'incipit ha citato una delle poesie la testimone cieca perché Margherita Zuzman muore sostanzialmente ormai gli ultimi anni della sua vita era purtroppo cieca e la sua autobiografia la fa scrivere perché non riesce più e in questi ultimi anni il contatto tra i due era molto molto forte se abbiano parlato di Gustav Landauer nell'epistolario insomma nelle lettere purtroppo questo non lo so dire allora di Margherita Zuzman sono state tradotte due libri il primo è il senso dell'amore del 1912 ed è stato tradotto una quindicina di anni fa da Anna scusate la pronuncia non lo so come si dice grazie grazie mille ecco infatti e l'altra l'ha tradotto benissimo una traduzione veramente anche perché è un un testo tostissimo Fons in der Liebe e lei si occupa proprio del concetto metafisico di amore fa anche lì una ricostruzione storico filosofica molto complessa e comincia ad affacciarsi al pensiero della differenza quindi già lì comincia grazie al colloquio con anche con Simmel e il libro è dedicato proprio a Gertrude Zimmel peraltro e poi il libro di Giobbe è stato tradotto da Bonola sempre forse un pochino prima mi sembra negli anni 2000 ed è uscito per giunti la giuntina e basta di lirica no però mi ha in realtà un pochino anticipato perché io me ne vorrei occupare nel prossimo intervento che fa sì sì però se non abbiamo le traduzioni non possiamo non ce l'abbiamo dobbiamo aspettare un pochino sono tre raccolte poetiche che lei ha scritto purtroppo no purtroppo no purtroppo no proprio di tradotto in italiano e pubblicato sono questi due libri e basta nel Giobbe capisco che c'è qualche accenno poetico esatto dunque forse si potrebbe iniziare da quel libro bene sì no ci sono ringraziamenti finalmente si sente grazie dell'illuminante contributo molto bello piaciutissimo buona serata Esther Saletta per chi legge il tedesco c'è questa pagina sì grazie noi possiamo anche leggerlo non possiamo capirlo ma 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 non tutti almeno ma abbiamo bisogno delle traduzioni in italiano se qualcuno ne sa qualcosa parte quelle che arriveranno possiamo chiedere anche professore sacciaica se la traduzione lei forse ha tradotto in polacco che poi posso io ritradurre in italiano credo che sia una strada troppo lunga qui presenti qualche domanda no un bel applauso ringraziamento vivissimo perché è una è una è una sorata di scoperte scoperte del personaggio anche del dottore che così ha aperto la sua carriera da oratore grazie mille per questa conferenza che mi ha svelato un mondo affascinante ecco grazie davvero rita calabrese complimenti a giuliano lozzi e grazie a tutti grazie Ilaria mille grazie molto interessante attendiamo le traduzioni poetiche buon lavoro con congratulazioni al relatore ad neiger ok allora possiamo concludere grazie mille a tutti qui presenti è una sala eh quello dico a chi non lo vede strapiena e grazie a quelli che ci seguono eh da lontano eh arrivederci il quattordici di aprile dove quando parleremo quando parleremo eh di Hanna Arendt grazie mille 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 grazie mille